Beautiful, anticipazioni 19 aprile, il gesto fatale di Deacon che potrebbe incastrarlo definitivamente. Ecco che cosa accadrà nel corso della puntata in onda domani. Beautiful, anticipazioni 19 aprile, arriva il gesto fatale di Deacon che lo incastra definitivamente. Nella puntata precedente, in onda il 18 aprile, i telespettatori hanno visto che, mentre Deacon contatta Sheila per recuperare delle immagini che potrebbero incastrarla, ecco che arriva la polizia. Ormai, Finn e Steffi sono pronti a tutto, pur di fare in modo che Sheila possa essere scoperta. Vogliono a tutti i costi che la donna sia incastrata, presa e sbattuta in carcere. Eppure, il poliziotto Baker non può essere sicuro del fatto che la donna incontrata, con un travestimento, possa essere veramente lei. Può averne la certezza solo dopo che ha visto le reali immagini tramite una videocamera di sicurezza. Intanto, al solo pensiero che la donna possa tornare o l'attacco, crea veramente il panico sia in Finn che in Steffi. Deacon, però, farà un gesto che potrebbe essere veramente fatale per lui. Ecco, tutto quello che accadrà nel corso della prossima puntata di una delle soap più famose e longeve della tv. Beautiful, anticipazioni 19 aprile, il gesto fatale di Deacon che lo incastra. Dopo aver visto Sheila vicino alla toaletta del giardino di Deacon, Steffi e Finn decidono di agire subito. Chiamano quindi la polizia per cercare di aiutare la donna che, dopo essere evasa dal carcere, ha finto spudoratamente la sua morte. Ora, quindi, i due ragazzi sono praticamente certi. Sheila è viva e ha sempre finto tutto. Una volta che è stato chiamato, Baker decide di arrivare subito sul posto per capire che cosa stesse succedendo. Naturalmente, vuole avere la certezza che sia proprio lei la donna che i due ragazzi hanno visto precedentemente e che non ci siano errori. Per questo ha bisogno di avere proprio delle prove fisiche che testimonino che la donna sia viva. L'uomo chiede a Sharp di poter visionare i filmati delle telecamere che si trovano al giardino. Nella puntata precedente, Deacon ha fatto un altro gesto sbagliato. L'uomo, infatti, ha avvisato Sheila che la polizia la sta cercando e se dovessero accorgersene lui finirebbe davvero nei guai. Ancora, abbiamo visto anche che Deacon ha nascosto la mamma di Finn a casa sua per tanto tempo, e ora ha paura di essere scoperto. Per questo continua a compiere dei gesti folli che potrebbero solo creargli danni e farlo incastrare ancora prima. Infatti, nella prossima puntata farà qualcosa di assurdo. Cancella tutte le immagini delle videocamere e simulerà un guasto tecnico. Qualcosa di molto pericoloso che potrebbe, molto presto, incastrarlo.